Pandemia e ripartenza sono due sostantivi femminili che rappresentano gli antipodi di un'epoca disordinata. La prima ha dominato pensieri e parole dell'ultimo anno e mezzo, la seconda si comincia a delineare scorrendo analisi e report di istituzioni denti. Uno di questi è il bollettino Excelsior, redatto da Union Camera ed Ampal. Pubblicato l'8 giugno mette in evidenza che nei prossimi tre mesi le imprese offriranno 1.300.000 opportunità di lavoro, un numero che ci consentirà di superare i livelli di occupazione del periodo pre-covid. Il settore trainante per eccellenza è il manifatturiero, in primis l'industria alimentare e quelle metallurgica, metallica ed elettronica. Previste in ripresa però anche la filiera turistica. Il 56% dei contratti sarà a tempo determinato, il 19% a tempo indeterminato, il resto soprattutto somministrazione e apprendistato.